Stiamo andando a cercare un villaggio nuragico fra i più belli. Stiamo andando a cercare un po' di più. Qui è un po', forse, chiuso. Bello, sono gli uffici, i bagni qui, strutture ricettive nuragiche. Eh vabbè dai, almeno c'è qualcosa. Si inizia a intravedere l'area archeologica dove ancora ci sono gli scavi qui. Non ho mai visto nulla di così. Bello, andiamo a vedere, guardiamo qualcosa. Qui c'è il sentiero naturale. 300 metri oppure il nuraghe quassù a 150. Brunchesomu. Molto bello qui, hanno fatto una bella passerella, una scrittura nuragica in tutte le pietre. che emozione viccio. Quello delle stelle. Vieni qui quello lì. E non se lo ricordi il video. Vieni qui. Vieni qui. Ciao.